E allora continuiamo questa bella giornata ricca di contenuti, ricca di ospiti e adesso facciamo un bel viaggio. Sì, un viaggio nello spazio, innovazione e lanciamo quindi il video del prossimo ospite. Vai! Signore e signori, Luca Rossettini. Buongiorno a tutti. Innanzitutto lo sfondo si presta bene a questa presentazione. Quanti di voi volevano fare l'astronauta o magari vogliono ancora? Allora, io sicuramente ci sto ancora provando e quindi adesso vi spiegherò come sta cambiando lo spazio, ma poi vi farò anche vedere che cosa sto facendo, il primo passo per arrivare a fare la mia navicella spaziale. Magari un giorno poi la condividerò, metterò anche io i biglietti per tutti i disponibili. Lo spazio. Allora, lo spazio è questa cosa nera che vedete qui al di fuori della cosa blu. Ok? È importante perché questa cosa nera si sta restringendo, quindi la sfera, la nostra terra si sta espandendo. Gli esseri umani stanno utilizzando lo spazio sempre di più e lo utilizziamo in diversi modi. Sicuramente quando parliamo di spazio probabilmente vi viene in mente questo, grandi satelliti, enormi, 10-20 anni per costruirli, miliardi di dollari per costruirli, oppure vi viene in mente l'uomo sulla luna, o ancora vi viene in mente lo shuttle. Ecco, è vero, lo spazio esiste grazie a queste tecnologie che sono state sviluppate negli ultimi 60 anni, ma adesso lo spazio sta cambiando. Quindi stiamo entrando in quello che viene chiamato new space, o nuovo spazio, che sostanzialmente si basa su aziende private, tantissime start-up, che vogliono fare il loro business utilizzando satelliti. Perché vogliono utilizzare satelliti? Perché tutti questi settori industriali sulla Terra, ce ne sono tantissimi, stanno utilizzando sempre di più dati satellitari per migliorare la vita delle persone e permettere di fare business a Terra in modo più efficiente. È un mercato che si prospetta essere estremamente grande, si parla di un trilliardo di dollari addirittura. Ed è un mercato che permetterà a noi di utilizzare in modo più consapevole tecnologie che oggi non sappiamo neanche che esistano. Vi faccio un esempio. Oggi, già oggi, finché io parlo, un pescatore in Puglia può sapere quando e dove andare a raccogliere i propri molluschi e venderli sul mercato al miglior prezzo. Questo grazie alle tecnologie satellitari. E tutto questo è reso possibile, quindi non più, diciamo, solo tramite enormi satelliti dal costo elevatissimo, ma grazie a piccoli satelliti. E quando dico piccoli, sono satelliti che possono stare nel palmo della nostra mano. E tutto questo è nato grazie a una miniaturizzazione spinta che è accaduta non tanto nello spazio, ma qui sulla Terra. I settori tecnologici qui a Terra, l'abbiamo visto negli ultimi due giorni, stanno correndo veramente velocemente. La miniaturizzazione ha avuto un ruolo fondamentale. In pochissimi anni siamo passati da satelliti grandi come una stanza, a satelliti grandi come una lavatrice, a pari prestazioni, fino a satelliti che stanno davvero nel palmo della nostra mano. Di satelliti così oggi ce n'è qualche centinaia in orbita. Molti di questi fanno foto e alcune di queste le vedete su Google Map quando andate a collegarvi. L'altro fattore che ha permesso questo rapidissimo cambiamento del settore è stata la fame di spazio di tutte le nazioni del mondo. Quindi se pensiamo agli anni Sessanta, questi erano gli stati che avevano accesso allo spazio. E se guardate c'è l'Italia. L'Italia è stato il terzo paese al mondo a lanciare un satellite in piena guerra fredda dopo Unione Sovietica e Stati Uniti. Quindi l'Italia ha un sacco di esperienza e di capacità tecnologica in ambito spaziale. Comunque, anni Sessanta, l'altro ieri. Anni Sessanta, l'altro ieri. Quindi vedete come praticamente tutto il pianeta Terra sta cercando di avere accesso allo spazio. Non perché, sicuramente anche perché lo spazio in qualche modo affascina, ma soprattutto perché dallo spazio è possibile erogare servizi, migliorare la vita delle persone. Quindi se negli ultimi Sessant'anni abbiamo lanciato 6.600 satelliti in tutto, quindi Sessant'anni, 6.600 satelliti, quello che ci troviamo ad affrontare oggi sono 400 aziende al mondo che vogliono lanciare satelliti, di cui quelle 80 che vedete qui dicono di volerne lanciare più di 23.000 nei prossimi 5-10 anni. Perché ne vedete solo 80 su 400? Perché queste hanno soldi, queste sono state finanziate da capitali privati o da grosse corporate. Quindi in realtà la differenza, ancora una volta, il terzo fattore che ha permesso la creazione di un nuovo mercato accessibile a tutti è proprio l'accesso al capitale. Quindi investitori privati che hanno capito che nello spazio non si fa solo esplorazione, ma si possono fare business, si possono generare nuovi tipi di lavori. Che cosa vuol dire nuovo spazio? Di che cosa stiamo parlando? Voi avete in mente il GPS, probabilmente, no? Ma molti dei vostri cellulari in realtà funzionano anche con Galileo, che è la costellazione europea simile al GPS. Ma di che cosa stiamo parlando? Sicuramente stiamo parlando di internet, quindi dare la possibilità di essere connessi a tutti, anche a quei 2 miliardi di persone che oggi non sono connesse. Internet è importante, la connettività ormai sta diventando un altro bisogno fondamentale. Essere connessi permette di studiare anche da zone remote e di essere più vicini uno con l'altro. Un altro settore è l'agricoltura. Agricoltura non solo quella che abbiamo noi qui in Italia, quindi migliorare quella che c'è, ma anche portare agricoltura dove oggi è impossibile portarla, sapendo dove andare a mettere l'acqua, sapendo quale culture hanno bisogno di cure rispetto ad altre. Ma se andiamo proprio a livello base, comunicazione. Ci sono intere aree del nostro pianeta che non hanno neanche accesso al telefono. Un nostro cliente sta lanciando 200 satelliti per erogare servizi di telefonia ed SMS, che tra l'altro SMS è il Whatsapp dei vecchi, mi dicevano le nuove generazioni. Quindi SMS e telefonia nella fascia equatoriale del pianeta. Poi possiamo andare su Internet of Things, adesso si dice Internet of Everything, il controllo degli aerei. Giusto per chiarire, un aereo quando si trova sopra l'oceano non si sa dove sia. I radar arrivano fino a un certo punto. Quindi da satellite è possibile monitorare il traffico aereo, ma anche il traffico. Allora io quando ho visto questa immagine, e questa è un'autostrada all'ingresso di Pechino, ho smesso di lamentarmi della tangenziale di Milano. Adesso non so se voi qui a Rimini di come siete messi. Sicuramente di fronte ad un'immagine del genere capite che per riuscire a gestire una situazione del genere le tecniche tradizionali non bastano più. Quindi big data, dati satellitari e applicazioni che permettano di gestire situazioni di questo tipo. Ma anche, ad esempio, prevenire e prevedere e gestire i disastri naturali. Noi in Italia possiamo parlare molto di questo. Prevenire aree estremamente inquinate, sapere come l'inquinamento si sposta e anche trovare l'acqua sotto il deserto. Ecco, tutto questo oggi è possibile grazie a questi servizi satellitari che vengono erogate da tutte queste nuove aziende che stanno lanciando centinaia e migliaia di piccoli satelliti. Chiaramente, se c'è un vantaggio da una parte, noi da buoni italiani ci giriamo dietro la schiena e diciamo ok, ma se ci guadagno di qua, che cosa ci sto rimettendo? Ovviamente c'è sempre l'altro lato della medaglia. A scuola dicevano che non ci sono pasti gratis. Questo è quello che è successo negli ultimi 60 anni. Questo è un video realizzato dall'Agenzia Spaziale Europea e questi sono solo satelliti, non detriti, non pezzi di satellite, puri satelliti che sono stati lanciati negli ultimi 60 anni. Quindi immaginate adesso di essere una nuova azienda che vuole lanciare i suoi 100 satelliti per erogare internet nei paesi che oggi internet ancora non hanno. Quando voi siete su un satellite non si può veramente frenare, è molto difficile. Quindi immaginate di essere in questa situazione e di dover lanciare il vostro satellite in mezzo a questi altri satelliti. E tenete conto che in realtà qui vedete solo satelliti, ma nell'arco di 60 anni questi satelliti hanno cominciato ad andare a sbattere uno contro l'altro, ad esplodere, generando tanti frammenti. Frammenti che viaggiano a 20-30 mila chilometri all'ora. Quindi anche un pezzo di vernice può trapassare un satellite da parte all'altra. Qui vedete uno scenario, diciamo, futuro. Ogni flash rosso è una collisione. Sostanzialmente si genererebbe un effetto a catena che potrebbe spazzare via tutti i satelliti attorno alla Terra. E quindi se prima pensavate vabbè, tutto sommato, chi se ne frega, noi sulla Terra siamo bene lo stesso, adesso cominciate a capire che forse tanti dei servizi che noi utilizziamo, senza rendercene conto, potrebbero all'improvviso sparire. Ma non solo. Questi oggetti ogni tanto tornano. E quando tornano sono pericolosi. Allora, negli ultimi 60 anni la probabilità che ci cadessero in testa era assolutamente ridicola. Molto, molto bassa. Ma lanciandone 23 mila la probabilità aumenta. Si parla di un 10%. E quindi, tutto sommato, la situazione comincia ad essere un po' pericolosa. Ma non vi preoccupate perché ci siamo noi, azienda italiana, che si occupa proprio di questo e di gestire questi piccoli satelliti. Quindi, se vi chiedessi che cosa manca in questa immagine? Nessuno? Il trasporto spaziale. La logistica. La gestione del traffico in orbita. Oggi sulla Terra non esiste business che potrebbe funzionare senza logistica. Se io produco penne, ho bisogno che qualcuno prenda le penne dal mio capannone e le porti dal cliente finale. Il traffico viene gestito da delle regole. Viene gestito da dei semafori e da della polizia che gestisce il traffico. Tutto questo nello spazio non c'è. Noi oggi mettiamo l'automobile all'interno di un satellite per farlo spostare in orbita con dei costi enormi rendendo comunque difficile fare business. Ecco, questo è quello di cui ci vogliamo occupare noi. Fare pulizia. Rendere lo spazio un ambiente abilitante per il business e le attività umane del futuro. Che cosa stiamo facendo adesso? Ovviamente questa è un'immagine futuristica. Noi questa non ce l'abbiamo davvero in orbita. Ce l'avremo tra qualche anno. Anche perché di fatto oggi non avrei nessuno a cui vendere questi servizi. Queste costellazioni di satelliti sono adesso in costruzione e verranno lanciate nei prossimi anni. Quindi quello che facciamo è che ci occupiamo di dare una mano a questi piccoli satelliti per posizionarli meglio in orbita e trasportarli dove servono e alla fine rimuovere quelli che non servono più evitando che diventino di nuovo degli oggetti dannosi per tutti gli altri satelliti. Questo è un fiorino. Immaginate un fiorino. È grande più o meno come una lavatrice. Lo potete riempire di tanti piccoli satelliti e lo potete mandare in orbita. Vi faccio vedere più o meno come funziona. Quindi lavatrice, prende, viene lanciata in orbita. Di mezzo c'è un missile, un lanciatore che lo porta in orbita. E questo è come funziona. Quindi satellite arriva, il cliente dice io voglio il mio satellite qui perché qui devo fare delle foto meravigliose da questa orbita e io lo rilascio. Dopodiché il fiorino riaccende il motore quindi si prepara e ha rilasciato i pacchi a Milano e adesso si dirige verso Roma. Quindi arriva a Roma e rilascia gli altri pacchi. Questo è il primo servizio di trasporto orbitale al mondo generato qui in Italia. Chiaramente Grazie. Chiaramente non basta questo non basta questo servizio i servizi devono essere erogati a 360 gradi devono poi essere operati noi abbiamo le antenne sul tetto del nostro capannone quando eravamo una start up avevamo chiesto aiuto a qualche grande azienda di operarci i nostri satelliti ma all'epoca la parola New Space non esisteva quindi quando ci hanno mandato l'offerta il valore dell'offerta era quasi la metà del valore della società quindi di fatto ce lo siamo dovuti fare in casa quindi oggi ci troviamo queste antenne e questa capacità di controllare i satelliti. Ma la cosa importante che invece volevo dirvi verso la conclusione di questa conversazione è che oggi effettivamente è possibile utilizzare il business anche nei settori più disparati anche in quei settori dove uno non arriva a pensare l'impatto che può avere sulle nostre attività per creare un impatto positivo esiste un nuovo modello di business che si chiama for benefit quindi società che devono fare soldi devono restituire quanto preso ai propri investitori devono fare profitto ma lo fanno in modo tale da poter avere un impatto positivo a 360 gradi sulle persone dell'azienda nei prodotti che fanno e in tutta la società e questo è un nuovo modello che in futuro non chiameremo più for benefit perché il for profit verrà sostituito da questo modello che è sicuramente più competitivo quindi tornando all'immagine della nostra terra queste sono due foto scattate dal nostro satellite avete capito più o meno che il nostro pianeta è un'astronave che si sposta nell'universo e che si sta espandendo quindi se un giorno voleste andare a fare una vacanza sulla luna o per i più temerari ad andare a raccogliere questa è un'immagine della NASA e a me sembra marijuana ma probabilmente si tratta di un'erba un'erba medica su Marte ricordatevi che da Marte quando guardate indietro la terra è un puntino è un puntino ed è tutto ciò che abbiamo la terra è tutto ciò che abbiamo quindi dobbiamo prenderci cura del nostro pianeta utilizzando la tecnologia per avere un impatto positivo concludo con questa frase che non è mia che però trovo estremamente estremamente potente quindi salvare il nostro pianeta sollevare le persone dalla povertà avanzare la crescita economica questi sono uno e tutti i combattimenti che dobbiamo fare dobbiamo unire i punti tra il climate change la scarsità d'acqua la scarsità di energia la salute globale la sicurezza del fumo del cibo e women's empowerment le soluzioni ad un problema devono essere soluzioni per tutti e io credo che in questo lo spazio possa dare il proprio contributo grazie mille grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti